Crudi, cotti e mangiati, prima edizione di questa manifestazione che si tiene a Roseto. Ne parliamo con Claudio Amici dell'associazione Brucare Ollus. Allora, crudi, cotti e mangiati, di cosa si tratta? Si tratta di una bella iniziativa che stiamo promuovendo tramite la Brucare Ollus. Parleremo di autoproduzione, di autosufficienza, parleremo di agricoltura sostenibile, parleremo di autocostruzione soprattutto. La manifestazione ruota intorno alla costruzione di due forni in terra cruda. Partiremo con una progettazione partecipata e poi la realizzazione. Metteremo materialmente le mani in pasta e le realizzeremo. E poi ci saranno tutta una serie di iniziative all'atere, tra cui presenteremo i nostri progetti didattici di educazione ambientale per le scuole e poi domani avremo una conferenza molto interessante con civiltà contadina, con slow food e con commercio equo solidale, parleremo di sovranità alimentare. Poi avremo cene, pranzi sociali, parleremo di canapa, della canapa che sta tornando sul nostro territorio, parleremo di un altro modo di fare agricoltura, presenteremo i nostri orti sociali e i nostri 60 e più ortolani.